bentornati a panorami dopo le meritate vacanze di agosto e se dobbiamo trarre un bilancio per l'appunto delle vacanze e del periodo agostano tramare monti e scampagnate fuori porta quello che possiamo dire è che si è trattato di una dimostrazione di maturità una coda di dimostrazione di maturità dopo il periodo tremendo dei mesi passati e gli italiani hanno dimostrato salvo poche eccezioni dei conducibili ad un pezzo di costa smeralda come abbiamo letto sulle cronache e soprattutto ad alcuni locali di certi personaggi pubblici come il billionaire si è trattato per lo più di una dimostrazione per l'appunto di grande capacità di self control di autocontrollo di maturità di responsabilità sicuramente dettata dalla paura della seconda ondata di cui si intravedono alcune avvisaglie purtroppo già in questi giorni sicuramente per paura del rialzo dei contagi di cui di nuovo stiamo assistendo in queste giornate ad alcuni segnali ma più in generale e per evitare quella retorica anti italiana a cui troppe volte a cui troppo spesso indulgiamo si è trattato di una capacità e di una maturità che non avremmo forse nel passato dato così per scontate e che dimostrano che invece come già in tante altre occasioni in realtà importanti e significative la popolazione italiana la società civile nazionale sa reagire nel migliore dei modi del resto questo lo abbiamo visto anche nelle altre negli altri aspetti negli altri settori della vita pubblica e della vita civile abbiamo una società civile per l'appunto un'opinione pubblica un mondo economico e produttivo che è pronto a ripartire alla grande diciamo così nonostante la caduta di 12 punti percentuali del pil che purtroppo ci attendevamo all'indomani del lockdown abbiamo un mondo produttivo ed economico e una società civile che ha progetti che aveva già iniziato a dare la propria ai segnali della propria volontà di ripartenza e della propria tenacia nel cercare di rimettere in carreggiata le cose subito nelle settimane successive al lungo confinamento quello che ci dobbiamo aspettare però anzi quello che dobbiamo pretendere davvero è che questa tenacia questa solidità questa capacità di guardare all'orizzonte senza farsi scoraggiare contagi diciamo così in maniera positiva anche la classe politica che vediamo un po troppo affaccendata e come sempre immediatamente ripresa dalla sindrome della campagna elettorale permanente se facciamo attenzione a partire dal silenzio del presidente del consiglio giuseppe conte che invece era stato un comunicatore molto presente e molto attento persino al di là potremmo dire delle sue competenze nel corso dei mesi più accesi della pandemia del contagio oggi pare un po scomparso e colui paiono sospese tutte le forze politiche in attesa del risultato dell'ennesimo appuntamento elettorale quello delle regionali del 20 e 21 settembre che vedranno il loro svolgimento insieme al referendum sul taglio dei parlamentari ecco sarebbe bene invece che la paralisi che ha improvvisamente caratterizzato e colpito il mondo politico venisse emessa da parte per l'appunto e quella classe politica desse un segno di proattività e desse dei segnali di attivismo cercando di indicare con precisione oltre al grande importantissimo appuntamento della riapertura della scuola quelle che sono le priorità per far ripartire il paese dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale per venire per lenire e limitare le sofferenze che sicuramente arriveranno e allora c'è tanta attività e tanta responsabilità all'interno della società civile e del mondo economico e produttivo vorremmo e abbiamo il diritto di chiederlo che altrettanto attivismo venisse manifestato dalle forze politiche anche sui grandi progetti che ci attendono come pure sulle piccole ma fondamentali questioni della vita quotidiana necessaria per la ripartenza e quindi a tutti buona ripartenza da panorami